Prima di tutto di essere qui, oggi 5 marzo inizia il primo step per noi e per il gruppo parlamentare di cui faccio parte che va nella direzione del microcredito, quello previsto al testo unico bancario e che rappresenta la risorsa che noi in questo momento stiamo cercando di portare a disposizione dei cittadini il più possibile e inizia un percorso che va nella direzione del cosiddetto click day. Io vi spiego semplicemente quali saranno i prossimi passaggi e chi saranno i protagonisti di questi prossimi passaggi. Ieri al mercato di testaccio abbiamo presentato il microcredito 5 Stelle, è un fondo del Ministero dello Sviluppo Economico su cui ci sono 10 milioni di euro di restituzioni dei parlamentari del Movimento 5 Stelle a cui si può accedere attraverso una procedura di evidenza pubblica, una procedura quindi istituzionale sulla quale i parlamentari che hanno restituito le somme non hanno nessun potere di controllo o di condizionamento. Il primo step che parte oggi è quello per tutti gli interessati di ricominciare a preparare quelle che sono le cosiddette pratiche per poter partecipare al click day. Ora, ieri quando abbiamo lanciato questo sito internet microcredito5stelle.it c'è stato un po' un assalto alle sedi dei consulenti del lavoro provinciale in tutta Italia, infatti se ci sono ostaggi liberateli, ve lo chiediamo per favore. Ovviamente magari abbiamo anche peccato noi di comunicazione perché vorrei chiarire, non c'è alcuna fretta. Il primo, il click day sul sito del Ministero per cominciare a prenotare le risorse inizierà da qui a circa 30 giorni. In questi 30 giorni è importante che tutti gli interessati che hanno un'idea di impresa o hanno un'impresa che vogliono far partecipare al microcredito debbano iniziare appunto a procurarsi quelle che sono sia le documentazioni ma soprattutto a verificare se hanno i requisiti per poter accedere a questo fondo. Il secondo step, come vi ho detto ad inizio aprile, sarà quello di un click day sul sito istituzionale che permetterà al cittadino interessato di compilare un form e poi il terzo step sarà quello con il voucher che avrà restituito il sito del Ministero di recarsi presso l'intermediario per eventualmente riscuotere la somma perché come abbiamo detto c'è bisogno di requisiti e c'è bisogno anche di un progetto di impresa. Noi vogliamo specificarlo, il microcredito non è beneficenza per carità, il microcredito è un credito senza garanzie reali che si dà ad un'idea di impresa, un progetto di impresa e deve prevedere un rientro di quella cifra. Quindi questo è importante, richiede serietà e richiede un'idea di impresa. Non sono soldi che lanciamo dai balconi per intenderci. Oggi accanto a me c'è la Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro Marina Calderone, a fianco a me il Dottor Salvatore Barca. Entrambi affronteranno gli aspetti più tecnici e soprattutto la Dottoressa Calderone il ruolo dei Consulenti del Lavoro in questo primo step. Perché siccome noi avevamo premura di non abbandonare il cittadino a l'esigenza di accedere a questi fondi, ma un'impossibilità di riuscire a raggiungere quelli che sono, a capire quali sono i requisiti, a capire quali sono le documentazioni da presentare, noi abbiamo gentilmente chiesto alla Dottoressa Calderone e a tutto l'Ordine dei Consulenti del Lavoro che da lei ha presentato, se c'era una disponibilità, visto che hanno un radicamento sul territorio nazionale molto grande, se c'era la disponibilità a poter informare i propri iscritti all'Ordine di questa iniziativa in modo tale che tutti i cittadini che passano per questo sito microcredito5stelle.it possano andare dai Consulenti del Lavoro e cominciare al percorso che li porterà verso il click day. Quindi per concludere, così poi passo la parola alla Dottoressa Calderone, istruzioni per l'uso, primo step, non c'è fretta, abbiamo una trentina di giorni, cominciare a prendere contatti con il Consulente più vicino al proprio territorio, sul nostro sito trovate l'elenco dei Consulenti del Lavoro divisi per provincia e poi per comuni della provincia e cominciare quindi a verificare se la propria idea è un'idea che ha i requisiti compatibili con il decreto ministeriale, tutte le informazioni sono su microcredito5stelle.it, se quella idea di impresa è sostenibile per il microcredito, se l'impresa che si ha è compatibile con i requisiti, tra 30 giorni circa, negli inizi di aprile diciamo così, si abiliterà un form da compilare sul sito del fondo di garanzia del Ministero dello Sviluppo Economico dove ci sono i 10 milioni di euro che abbiamo restituito e si potrà ricevere il cosiddetto voucher, un voucher del Ministero dello Sviluppo Economico che ci consentirà di andare presso l'intermediario bancario a poi avviare la pratica per ottenere i soldi del microcredito. Quel voucher è a tempo, significa che non è che lo si può stampare e tenere con sé e si sono prenotate le risorse per sempre, ma bisognerà avere un po' di tempo, si ha un tempo limite per poterlo utilizzare presso l'intermediario. Il terzo step è quello in cui si ottiene la somma qualora l'idea ha i requisiti ed è valida. Io passerei la parola alla dottoressa Calderone ringraziando prima di tutto la categoria di professionisti che rappresenta senza la quale oggi noi avremmo fatto ben poco perché sia nella fase di preparazione di questo progetto e sia in questa fase fondamentale di cui il cittadino è disorientato perché noi puntiamo a far avvicinare a questi strumenti che sono strumenti ripeto istituzionali, cioè noi non abbiamo voluto creare fondi privati, è uno strumento istituzionale, noi puntiamo a far avvicinare a questi strumenti non i soliti imprenditori che per carità conoscono bene queste procedure e vi accedono solitamente, ma magari qualche cittadino che conosceva meno questi strumenti e ha l'occasione di potervi si avvicinare. Ringrazio la dottoressa Ancora e tutti i professionisti che rappresenta qui oggi perché il loro ruolo sarà fondamentale in questo primo step. Grazie, buongiorno, grazie onorevole Di Maio per la presentazione e anche per le parole che ha detto sui consulenti del lavoro. Una categoria professionale che si occupa di lavoro e che il lavoro ce l'ha nel suo nome non poteva certamente restare insensibile a una richiesta di collaborazione per la diffusione di uno strumento che l'onorevole Di Maio ha sottolineato essere uno strumento istituzionale. Stiamo parlando di un fondo gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico che metterà in campo quest'anno 40 milioni di euro, l'onorevole Di Maio diceva, 10 che vengono dai conferimenti dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, 30 dal Ministero dello Sviluppo Economico. È un'opportunità, un'opportunità importante in un'Italia in cui sappiamo perfettamente che i numeri della disoccupazione crescono e raggiungono soprattutto nella fascia giovanile delle percentuali estremamente preoccupanti. Non penso di dire cose che non sono conosciute ai più, però oggi i consulenti del lavoro gestiscono 7 milioni di rapporti di lavoro dipendente, quindi noi comprendiamo bene invece quanto sia importante insieme a questo aspetto legato al lavoro dipendente gestire quelle che sono le iniziative che possono favorire l'autoimprenditorialità. Laddove non possiamo pensare a un Paese solo ed esclusivamente di lavoratori subordinati, credo sia importante invece favorire quelle iniziative sane di lavoro autonomo e di piccola o microimpresa come in questo caso. Ha fatto bene l'onorevole Di Maio a sottolineare che non si tratta di un finanziamento a fondo perduto perché credo che questo vada assolutamente messo in evidenza. Si tratta certamente di una forma di finanziamento minima, si parla di 25 mila euro, ma per avviare una piccola attività di lavoro autonomo credo che siano sufficienti soprattutto se per esempio quell'attività di lavoro autonomo è un'attività di uno studio professionale perché anche i liberi professionisti, i giovani liberi professionisti potranno certamente ragionare sulla presentazione anche di un progetto di questa natura. Però ecco queste forme di sostegno poi sono degli elementi che vanno a vantaggio di una categoria di soggetti che probabilmente dai canali del credito tradizionali non potrebbe passare perché non ha idonee garantie allora porsi il problema di guardare a chi non ha ancora la possibilità di prestare garanzie perché magari non ha mai lavorato oppure non ha alle spalle sicuramente chi garantisce per lui e invece magari ha una bella idea, una bella idea imprenditoriale credo che sia un'opera che va anche sottolineata sotto il profilo sociale. Il valore sociale delle professioni si vede anche in questo, nel fatto di cercare di essere strumento per facilitare dei processi e questo faranno i consulenti del lavoro e io sono certa che i colleghi eserciteranno la funzione anche di suggerimento e di consiglio da dare a chi vuole presentare le domande proprio con la consapevolezza anche che l'importante è proprio quello di far presentare dei progetti che abbiano la possibilità poi di avere una evidente realizzazione perché? Perché come dicevo prima non si tratta di un finanziamento a fondo perduto, viene richiesto a chi acceda al finanziamento anche di essere regolare nel pagamento e nella restituzione in sette anni del finanziamento ricevuto perché da quella restituzione poi deriverà anche e questo credo di sottolinearlo come un ulteriore elemento sociale il fatto che il fondo venga ricostituito e che altre persone, altre imprese, altri lavoratori autonomi possano accedervi nel corso degli anni. Questa è la prima puntata, l'onorevole Di Maio diceva inizia oggi però non c'è la fretta di correre a presentare la domanda perché ancora la modulistica non è resa disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e poi ci sarà un click day che non vorrei che ai professionisti ricordasse qualche elemento di criticità che abbiamo a volte segnalato in altre situazioni analoghe. Lo intendiamo come il momento di partenza per l'invio delle domande ma non il giorno di scadenza della presentazione delle domande. Il fondo è aperto quindi da quel momento in poi, dalla data in cui il MISE pubblicherà la partenza delle domande, della presentazione delle domande e poi si va avanti e si andrà avanti nel corso degli anni. Mi sento di dire in chiusura che ringrazio perché a volte non è facile spiegare cosa fanno gli ordini professionali e soprattutto non è facile spiegare quella che è la funzione pubblica di garanzia della fede pubblica di un ordine professionale. Noi consulenti del lavoro abbiamo sempre cercato di far parlare i nostri atti e le nostre attività soprattutto laddove cerchiamo poi, dicevo prima, di essere strumento per facilitare i processi. In questo caso ci mettiamo il nostro entusiasmo, ce l'hanno contagiato e quindi siamo a disposizione ovviamente come istituzione per attivare un fondo istituzionale, siamo a disposizione dei cittadini e dei nuovi imprenditori ma anche di quelli che hanno un'attività avviata da poco per fornire tutte le informazioni. Seguiremo il microcredito anche attraverso il nostro sito istituzionale di categoria fornendo anche delle informazioni tecniche qualificante in modo da poter consentire a chi ne abbia interesse di avere tutte le delucidazioni di cui ha necessità. Grazie ancora. Grazie alla dottoressa Calderona. Adesso il dottor Salvatore Barca. Prima di farlo intervenire volevo pubblicamente ringraziare anche i dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico con cui abbiamo lavorato molto, i funzionari con cui abbiamo lavorato molto per riuscire ad attivare in tempi brevi la procedura. Sapete bene che dopo che una legge viene approvata in questo Paese inizia la trafila dei regolamenti attuativi e quello che c'è scritto i regolamenti attuativi non è scontato. Il ruolo di raccordo tra i dipendenti, i funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico che ringrazio pubblicamente e il lavoro che ha fatto il gruppo di lavoro della Forza Politica che rappresentano il Movimento 5 Stelle qui alla Camera. Il ruolo di raccordo lo ha svolto proprio il dottor Salvatore Barca nelle relazioni con il Mise e il MEF. Prima col MEF e poi col Mise e non è un caso perché anche lui è un dipendente del Ministero dello Sviluppo Economico consulente del lavoro e persone che in questo momento è in forze al nostro gruppo parlamentare. Quindi passerei la parola a lui per spiegare un attimo quali sono i requisiti per l'accesso a questo fondo. Allora, io entro nel merito dei dettagli tecnici che sono praticamente distintivi di questo strumento finanziario. Ho sintetizzato le novità in cinque punti essenziali che secondo me sono i veri elementi distintivi. Uno, l'assenza di garanzie reali da parte dell'utente finale che è l'elemento principe. Dopodiché una copertura a garanzia in sostituzione delle garanzie reali dell'utente finale fino all'80% del fondo del microcredito. Altra cosa importante al terzo punto, l'assenza di una valutazione economico-finanziaria da parte del gestore del fondo. Questo ci permette un'enorme semplificazione e snellimento all'interno dell'iter procedurale. Al quarto punto, la garanzia è prestata a titolo gratuito, quindi non possono essere richiesti compensi. E la sintesi dei precedenti quattro punti si conclude in un iter procedurale che durerà al massimo 6-7 giorni da quando praticamente l'intermediario invierà la domanda al Ministero dello Sviluppo Economico. L'elemento però che soprattutto distingue questo strumento finanziario rispetto a tutti quelli in essere sono i servizi di ausilio, di assistenza, di monitoraggio, i servizi di accompagnamento. Questo è il vero elemento distintivo del microcredito ed è la caratteristica che lo rende innovativo dal punto di vista di strumento finanziario. Infatti, per tutta la fase istruttoria e per tutta la durata della restituzione, i microimprenditori saranno accompagnati per mano. Uno dei requisiti richiesti nei decreti attuativi è proprio che l'operatore che voglia attivare il microcredito si impegni in almeno due elementi di accompagnamento che sono lo sviluppo del progetto finanziario, le tecniche di amministrazione, l'uso delle tecnologie o addirittura il supporto alla soluzione di problemi di ordine legale, fiscale o amministrativo. Questa è la grande innovazione del microcredito e creando uno strumento che attualmente non c'è a livello nazionale. Chi può chiedere? Andiamo su un elemento che forse interessa un po' tutti. Come prima cosa sia l'avvio che lo sviluppo, quindi sia start-up sia aziende già in essere. Si è cercato di dare un occhio di riguardo alle aziende relativamente giovani. Nel decreto sono sanciti dei requisiti che sono diciamo dei requisiti sia di età sia dimensionali per cercare di privilegiare società giovani e piccole. Chi sono i soggetti? I lavoratori autonomi con fino a 5 dipendenti e con massimo 5 anni di iscrizione alla partita IVA, quindi titolari di partita IVA da meno di 5 anni. Imprese individuali, sempre con meno di 5 anni di iscrizione alla partita IVA, con meno di 5 dipendenti. Società di persone, società responsabilità limitata, semplificata e società cooperative, in questo caso con iscrizione alla partita IVA da meno di 5 anni, ma fino a 10 dipendenti. Quindi questi requisiti, oltre a caratterizzare lo strumento, lo rendono fruibile in finalità che sono anch'esse codificate all'interno del decreto. Le finalità sono l'acquisto dei beni e dei servizi strumentali, la retribuzione dei dipendenti, il pagamento di corsi di formazione, alti ad aumentare il livello professionale della forza lavoro, dei soci, dell'impresa, o addirittura corsi di formazione di natura universitaria e post-universitaria. In quest'ultima casistica il finanziamento raggiunge la sua estensione temporale massima, arrivando fino a 10 anni, nelle altre casistiche è 7. Un ulteriore, l'ultimo accenno che voglio, diciamo, portare come contributo è l'erogazione finanziaria. Si è detto che l'erogazione finanziaria è un prestito, in sostanza è un credito che deve essere restituito. È importante che venga restituito perché il fondo è un fondo rotativo, ma la cosa veramente importante è che la puntualità nella restituzione delle rate ha un dispositivo di premialità, cosa voglio dire? Che se c'è un'erogazione, se si accetta un'erogazione frazionaria del credito e si dimostra il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate, insieme ovviamente a un attestato dell'operatore del microcredito che attesta il raggiungimento degli step del progetto, il microcredito può passare da 25 a 35 mila, quindi può essere integrato in un'ulteriore quota di 10 mila euro. In più è possibile praticamente erogare in corsa un nuovo finanziamento che sommato al debito residuo deve sempre raggiungere 25 o 35 mila euro. Cosa voglio dire? Che se la microimpresa è a metà del suo percorso e ha restituito su 25 mila, 12 e 5, può richiedere nuovamente un'erogazione di 12 e 5 fino a raggiungere il tetto di 25 o 35 mila euro. Questo è un dispositivo di premialità proprio inserito per la restituzione puntuale delle rate e per diciamo il monitoraggio degli step successivi nel progetto di finanziamento. Andiamo al tasso di interesse e forse è la cosa che interessa un po' tutti. Il tasso di interesse è l'80% del tasso effettivo globale medio. Cosa voglio dire? Il tasso effettivo globale medio è sancito e viene rimanato con un comunicato stampa della Banca d'Italia attualmente 10,59 e l'80% di questo tasso, ma in questo tasso che è un tasso effettivo globale sono compresi tutti i servizi, compresi i servizi ausiliari enunciati prima, cioè i servizi di assistenza e monitoraggio. Quindi in realtà è un tasso di interesse estremamente competitivo considerando che l'ansieda verrà accompagnata diciamo da un periodo che varia da 7 a 10 anni. Questo diciamo sono i caratteri distintivi. Poi prepareremo una scheda tecnica con in sintesi tutte le caratteristiche che pubblicheremo nei prossimi giorni. Grazie Salvatore. Prima di lasciarvi alle domande volevo quindi precisare un'ultima volta. Oggi il 5 marzo chi ha un'idea di impresa o ha un'impresa che rispetta questi requisiti può cominciare a metterla per iscritto, prendere contatti col consulente del lavoro, prepararsi in vista del click day che non sarà prima degli inizi di aprile. Questo click day non sarà un giorno ma sarà l'inizio con il quale si potranno prenotare le risorse che significa cominciare a compilare la domanda e cominciare quindi ad accedere a questo strumento. Il form, il ministero, questi campi da compilare, questo modulo da compilare online sarà già visibile sui siti del ministero ma non operativo qualche settimana prima. Quindi i consulenti ma anche gli interessati potranno familiarizzare con quello che dovranno compilare nel click day. Dopo il click day con il voucher restituito con questa ricevuta che ha un numero di serie e una scadenza ci si può arricare presso l'intermediario finanziario per cominciare ad accedere al finanziamento. È chiaro che il lavoro che faranno anche i consulenti e per questo li ringraziamo sarà quello anche di orientare la persona che ha l'idea di impresa o che ha già un'impresa verso la possibilità o meno di accedere a questo fondo. Noi abbiamo una grande responsabilità, quella di non far pensare che questi 10 milioni di euro che abbiamo tagliato dai nostri stipendi possano essere direzionati a chiunque. Noi vogliamo alimentare dei soggetti, delle attività produttive che prendano quei soldi e li moltiplichino nell'economia dal punto di vista dei posti di lavoro e dal punto di vista anche degli introiti che possono far girare. E per fare questo servono professionisti che consiglino l'interessato sulla validità o meno dell'idea. Quindi 5 marzo oggi, click day non prima di aprile, dopo il click day la possibilità di recarsi presso l'intermediario finanziario per accedere ai fondi. Quindi la cosa che mi preme di sottolineare è che non c'è fretta, abbiamo circa 30 giorni, quindi visto che ieri, concludo così il mio intervento, che ieri i consulenti del lavoro sia telefonicamente che fisicamente si sono visti, non dico a saltare, ma poco ci mancavano le sedi, io credo che abbiamo la serenità per poter preparare le documentazioni con calma, ma sono molto contento allo stesso tempo che il nostro sito internet abbia fatto in poche ore oltre 50.000 accessi. Ci sono state centinaia di telefonate e di richieste di contatto con i consulenti del lavoro in tutta Italia. Questo mi fa ben pensare sul fatto che stiamo dando un'opportunità a tante nuove persone e se solo è l'opportunità di conoscere strumenti come quello del microcredito e di cominciare a credere nella propria idea di impresa o in un progetto nella propria impresa già esistente, questo è già un grande passo. Come ieri ho detto, ce lo ridiamo come appuntamento, tre mesi da oggi per presentare alla stampa le prime persone che avranno avuto accesso a questo microcredito e quindi avranno potuto realizzare un'idea di impresa o avranno potuto far continuare ad esistere la propria impresa migliorandola, evolvendola, fermo restando che come ha detto il dottor Barca, dalla richiesta di accesso passeranno 6-7 giorni per l'erogazione del finanziamento perché non c'è a carico della pubblica amministrazione un'ulteriore procedura di accertamento che potrebbe impantanare la richiesta nei soliti meccanismi burocratici che purtroppo sono troppo lenti. Noi abbiamo cercato di fare il meglio possibile perché questi soldi che erano sui nostri conti correnti e adesso sono sul fondo per le piccole e medie imprese, per le micro imprese di fatto, possano essere utilizzati al meglio. Se ci sono domande siamo a vostra disposizione. Non mi pare? Prego. Se può avvicinare il microfono. Sì, volevo sapere se avevate fatto una stima preventiva sugli interessati, insomma sulle adesioni, visto che i consulenti del lavoro sono solitamente molto precisi in questo. Se l'indicatore è l'interesse manifestato solo nella giornata di ieri io credo che i fondi saranno sicuramente impegnati. Dicevamo prima 40 milioni di euro, ovviamente tutti quanti sappiamo far di conto, quindi sappiamo quelle che saranno le pratiche poi finanziate. Però mi sembra di comprendere che ci sia un reale interesse. L'importante, lo diceva l'onorevole Di Maio, lo voglio sottolineare, è che sia compreso che non è un finanziamento a fondo perduto ma soprattutto che poi deve essere finanziata un'idea di impresa reale perché questo poi è l'obiettivo e credo che debba essere anche la finalità che i tecnici che gestiscono l'iniziativa anche sotto il profilo dell'assistenza e della consulenza a chi poi presenterà la domanda devono avere. Cioè quello di poter orientare anche chi ha idea di presentare una domanda a comprendere se quel progetto è un progetto che ha una sua fattibilità, sia che sia un inizio di attività, sia che come diceva il dottor Barca invece interessi un'attività già esistente purché non da più di cinque anni ma che magari vuole implementare una parte della propria attività aziendale. Quindi io credo che sia un elemento, se posso testimoniare l'interesse sui dati di ieri ce n'è tantissimo. Questo poi coniugato a quelli che sono i dati che dava l'Onorevole Di Maio sul sito mi fa pensare che ovviamente l'interesse è conseguente anche alla difficoltà che oggi hanno le persone di accesso al mercato del lavoro. Ecco perché i professionisti se possono dare uno strumento e possono dare un apporto istituzionale quello che devono fare e di non ingenerare false illusioni ma invece di essere assolutamente corretti nel andare a sostenere quelle iniziative che poi abbiano una fattibilità reale, una spendibilità nel mercato del lavoro. Qualche altra domanda? Va bene, grazie. Grazie a tutti.